Una nutrita e serie di incontri pubblici tematici dell'Aggiunta Municipale Trestina con la cittadinanza in vista del report di mandato a Cancelletto 2 nell'amministrazione Cosolini si svolgerà a partire da martedì prossimo 3 settembre e seguirà fino a metà del mese nell'intento di illustrare dettagliatamente le cose fatte e quelle che ci impegniamo a fare entro la fine del mandato. I suddetti interdimenti e gli scopi delle iniziative sono stati spiegati dallo stesso sindaco Roberto Cosolini nel corso di una conferenza stampa. Lo scorso anno avevamo concentrato l'illustrazione del primo report sui risultati della prima fase del lavoro di questa giunta in un'unica occasione al ridotto del Verdi. Stavolta giunti al secondo giro di Boa ci troviamo con molteplici argomenti e relazioni nel più da esporre. Una sintesi unica sarebbe davvero troppo limitata per poter dar conto di tutto quanto svolto e di ciò che si intende ancora prossimamente svolgere in tutti questi diversi settori dell'amministrazione. Da ciò ha proseguito Cosolini l'idea di articolare questo resoconto alla cittadinanza in più appuntamenti suddivisi per argomenti il più possibile tra loro vicini o concomitanti con le sinergie che comportano ognuno curato dall'assessore di competenze. Un resoconto che abbiamo voluto proprio in tal modo, ha sottolineato il primo cittadino, rendere il più redagliato possibile nell'ottica che abbiamo voluto sposare fin dall'inizio del mandato, cioè la massima trasparenza e partecipazione. E' stato quindi, ha proseguito il sindaco, che crede in un modo civile e trasparente di rendicontare apertamente ai nostri cittadini lo stato di avanzamento dei lavori, un primo complessivo positivo riposizionamento di Trieste economicamente, culturalmente e turisticamente. E' stato quindi ancora il sindaco a presentare nei dettagli i cinque appuntamenti. Si inizia appunto martedì 3 settembre su Trieste, città delle persone, vede al protagonista, vice sindaco Martini, gli assessori Famulari, Grimm, al ricattorio Pitteri di San Giacomo. Alle 17.30, le appuntamenti successivi, giovedì 5, cultura e turismo, alla sala Giorgio Costantinides del Museo Sartorio. Alle 17.30, con gli assessori Miracco e Krauss. Martedì 10 settembre, sarà la volta di Anna e Biente, qualità del territorio, nella sala generale dell'EMIB del Ferdinandeo. Alle 17.30, con gli assessori Marchigiani e Leureni. Giovedì 12, su partecipazione e valorizzazione del territorio. alla Casa della Cultura di Prosecco, alle 17.30, con gli assessori Martini, Miracco e Dapretto. Mente venerdì 13, Economia e Sviluppo, la sede dell'Eziti, in via Quabroto 14, alle 10.30, con gli assessori Krauss, Montessano e Dapretto. Infine, decretivamente, Martedì 17, in una sede attualmente ancora da definire, avrà luogo l'incontro finale sullo complessivo report di mandato numero 2.